Il maestoso vulcano Mayon nelle Filippine continua a eruttare spregionando colonne di fumo e colate incandescenti. Delle 84.000 persone sfollate dall'eruzione del Mayon nella provincia di Albani, a 330 km a sud-est di Manila, ci sono 10.000 contadini con le loro famiglie. Temendo una grande eruzione, le autorità hanno stabilito una zona di esclusione su un raggio di 9 km attorno al vulcano e portato a 4 il grado di allerta su una scala di 5. La regione è famosa per i suoi peperoni, le coltivazioni di riso e verdure, ora tutte minacciate dalla colata. Il Mayon, che è famoso per la perfezione della sua forma conica, tocca i 2460 metri di altezza ed è considerato il più instabile dei 22 vulcani filippini attivi.